il 20 aprile ottenuto una lezione su chopin successivamente ho deciso di riportare in video il suo contenuto come avrete sicuramente visto sulla locandina la formula richiede una spiegazione più o meno un anno fa una studentessa mi ha posto una domanda era una domanda speciale stavamo leggendo alcuni passi della poesia di norwitt il pianoforte di chopin federico guarda questa è varsalia sotto l'infiammata stranamente livida stella guarda l'organo della cattedrale guarda il tuo nido guarda da un vicolo all'altro il rompono i cavalli dei cosacchi come le rondini prima della tempesta vedo i volti delle vedove in lutto spinte dal calcio dei fucili e vedo di nuovo malgrado il fumo sotto il colonnato trascinare come una bara il tuo pianoforte che cade cade l'ideale ha toccato il seggiato il ciò che dice glò haya ogni giorno Grazie a tutti.